CITRES CITRES è un'industria alimentare, un'azienda che nasce negli anni 60 e lavora a livello familiare. Facciamo conserve alimentari di verdure e prettamente trasformiamo verdure fresche e verdure semilavorate che acquistiamo nel mondo e anche in Italia. L'attività si è sviluppata molto negli ultimi 10-15 anni, abbiamo avuto dei tassi di crescita importanti e questo ci ha portato continuamente ad investire in tecnologia, in innovazione. All'interno di questo tipo di visione abbiamo pensato di sviluppare l'attività anche da un punto di vista ecosostenibile installando tra le altre cose un impianto fotovoltaico. Questo ci ha consentito negli ultimi anni di avere un notevole risparmio di tipo energetico che poi si riversa fondamentalmente sulla maggior competitività della nostra azienda. L'impianto fotovoltaico che abbiamo realizzato per la CITRES è un impianto composto da 900 pannelli fotovoltaici da 460 watt l'uno per un totale di 414 kilowatt e produce mediamente in un anno intorno ai 450-460 mila kilowattora. Di questi circa il 70% è energia che viene autoconsumata direttamente dal cliente durante i turni lavorativi mentre il 30% viene ceduto alla rete e il cliente ha quindi modo di beneficiare anche da questa componente extra. Il nostro approccio con il mondo del fotovoltaico è avvenuto per la prima volta nel 2011-2012 quando gli impianti erano ancora molto ben incentivati. L'esperienza è stata molto positiva. Nel 2021 abbiamo avuto l'approccio con la società Sorgenia che mi ha proposto la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da fare su due stabili nuovi, due nuovi capannoni che avevamo realizzato da poco. Quindi abbiamo deciso di andare avanti. La cosa che mi ha maggiormente in modo positivo sorpreso è che è stato un intervento assolutamente indolore. Hanno realizzato l'impianto senza arrecare nessun tipo di disturbo all'attività. L'impianto fotovoltaico che abbiamo realizzato per la CITRES gli consentirà anche di avere numerosi benefici dal punto di vista ambientale che potranno far valere su un mercato molto competitivo come quello appunto della food industry. Tutti questi valori sono molto importanti per la CITRES per far valere la propria impronta green su questo tipo di mercato e noi di Sorgenia siamo stati contenti di essere al loro fianco in questo processo di transizione.